e buonasera rieccoci sul canale nitro margherito scusate di questi giorni sono stato molto assente perché ho avuto un bel po da fare allora tutti hanno mostrato come si carica la pipa troppo facile mostrare come si carica la pipa io vi faccio vedere invece come non si carica la pipa e quindi a breve partire al video ci vediamo dopo allora eccoci qui vedete questa è una bulldog rusticata marchio sconosciuto che è messa a fuoco fantastico allora poi c'è questo aggecino qui resta aggecino qui non so come si chiama è ottimo e fantastico dovete perché fantastico fa tanto di quell'acqua e ruggiola che qui dentro ci puoi far crescere i girini si tanti girini ci puoi mettere qui dentro allora come faccio io a caricare la prende il tabacco prendiamo il comune il comune il tabacco ok giriamo qui la pipa diamo il tabacco ci affichiamo dentro così così ci affichiamo dentro così 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 bene premiamo premiamo forte forte ok e proviamo se non sentiamo più il tiraggio allora la pipa e carica va bene così non si fa capito come così non si fa va bene ecco questo è tutto ci vediamo tra un po bene abbiamo visto come non si carica la pipa per questo e tanti altri video vi consiglio di seguire anzi a differenza degli altri io vi consiglio di non seguire il mio canale non commentare non mettere nessun like e quindi ragazzi come sempre un saluto dal vostro nitro marcherito youtuber di rottura ma soprattutto patacca grazie a tutti